La pelle di Gesù alla conversione e alla penitenza non riguarda anzitutto le opere esteriori ma alla conversione del cuore, la penitenza interiore, cambiare vita dal male al bene. L'ambasciatore Petrucci racconta un episodio capitato alla frontiera della Turchia e gli riferisce che il suo cameriere pasqualino napoletano puro sangue viene fermato alla frontiera perché porta con sé un gatto. Alle sue osservazioni le guardie leggono l'articolo di legge che afferma che possono passare i cani e non i gatti. Colpa di fulmine per Pasqualino che grida allora il gatto lo dipingiamo o pitammo e così il gatto diventa cane. L'episodio lo prendiamo da un articolo di Intra Montanelli, un grande brano, bravo, a commento delle affermazioni dei vari politici in riferimento ai risultati elettorali. Ognuno si pittava secondo la convenienza. Purtroppo ciò non avviene solo in politica. Gesù ci invita a seguirlo in un cammino che esige il rinnegare se stesso, le cattive tendenze, l'amore disordinato. Tutto deve correre alla gioia in Dio. Il nostro corpo è arricchito dal don dei sensi i quali devono essere presenti come fonte di gioia e di godimento in Dio e non ostacolo al calmino di perfezione. La purificazione dell'intelletto per un'autentica conversione si verifica quando, eliminando le cattive inclinazioni come l'ignoranza, i giudizi, le curiosità inutili e malsane, la purificazione della volontà si ottiene mediante la rinuncia del proprio egoismo. Un tardo promeriggio d'estate Padre Pio era nell'orto del convento per una boccata d'aria quando sonò la campanella per andare in chiesa a pregare. Padre Pio si alzò e disse confidenzialmente ai due confratelli che erano seduti con lui, non ho nessuna voglia di andare in chiesa, si sta così bene all'aria fresca. Poi aggiunse andiamo e si avviò per la preghiera. Padre Pio amava dire la penitenza che più piace ed è accetta a Dio è il dolore dei peccati. Il peccatore con dolce rassegnazione deve portare la sua croce. Pio amava diretti che erano i dimenticazioni Acizzare il piacere. Pio è il piacere. Di ciò. Grazie a tutti